Abbiamo appena terminato il nostro seminario, oggi siamo occupati del condominio e abbiamo, come dire, affrontato il problema principale del condominio, cioè cosa il condominio è rispetto alla sua società giuridica distinta o meno dai condomini di cui appunto fa parte. Quindi la discussione rispetto a questo elemento, che è una verità da questo, sebbene a pochi mesi fa la Cassazione si è esprimata all'argomento e ha definito nuovamente la società giuridica del condominio che è distinta dai singoli condomini. Questo potrà portare delle novità anche in materia di esecuzione, come recuperare i crediti nei confronti del condominio stesso. In particolare siamo occupati della possibilità per i creditori del condominio di poter eseguire, poter avere esecuzione, il titolo ottenuto dal condominio aggredendo per esempio il conto corrente condominiale, che è un elemento di discussione se è possibile o meno, o anche addirittura una sentenza da Cassazione che ha ritenuto possibile ignorare le quote ordinarie che il singolo condominio deve al condominio con lo strumento di esecuzione presso terzi.